A distanza di neanche un mese dal primo giorno di scuola arriva anche la prima giornata di manifestazioni studentesche nel nuovo anno scolastico. Il corteo ha oggi attraversato le strade del centro città bloccando il traffico. Perché state protestando oggi? Per i diversi problemi della scuola. Quali sono concretamente? La scuola-lavoro per esempio, oppure tanti altri, come per esempio l'agibilità dei palazzini, della palazzina. Perché vogliamo i nostri diritti, vogliamo studiare strutture sicure, non che crollano. Le manifestazioni di questa mattina sono state organizzate dalla rete degli studenti medi, dagli studenti medi di Palermo e dal collettivo Garibaldi. Il filo che unisce le proteste di oggi è stato principalmente quello della contestazione all'artenanza scuola-lavoro prevista all'interno del decreto Renzi sulla buona scuola, la formazione dei presidi manager, il processo di privatizzazione delle scuole, i tagli alla formazione e la sempre meno risorse investite nell'istruzione pubblica.